Caro Marco, dalla tua lettera si vede che in effetti hai un po' di problemi, però sei molto, molto, molto coraggioso, hai tanta forza e questa forza ti aiuterà appunto a superare questo tuo momento, purtroppo, chiaramente, un altro momento. Però io ti vorrei dare un piccolo consiglio, cerca di imitare magari qualche personaggio dei cartoni animati che vedi, non so, non mi ero, non mi ero, chi? Una delle tartarughe ninja, esatto, una Raffaello, Raffaello, la tartaruga ninja che combatte sempre per sconfiggere il male. Ecco, prova ad imitare un attimo uno di questi tuoi eroi, vedrai che tutti i problemi si risolveranno, insomma, o quasi, io te lo auguro. E noi intanto... Un grosso bacio...